Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Chi è il figlio di Orietta Berti? L'uomo è molto conosciuto nel suo ambiente e ha un grande seguito sul web Ma di chi si tratta? Orietta Berti, quest'anno opinionista del grande fratello Vip, è una cantante conosciutissima e molto amata dagli italiani Con le sue canzoni ha fatto la storia della musica italiana e non si è mai fermata Con la sua personalità vulcanica ha conquistato tutti, dalle vecchie alle nuove generazioni La cantante si è messa in gioco più volte nella sua carriera, in particolar modo negli ultimi tempi Nel 2021 ha pubblicato il singolo Mille con Fedez e Achille Lauro, col quale ha scalato le classifiche e ha vinto il premio Fimi ai Power It's estate La canzone è stato un vero e proprio tormentone estivo.Nel 2021 è stata coach di The Voice Senior con Clementino, Gigi D'Alessio e Loredana Bertè Ha partecipato per due volte a Il Cantante Mascherato, nel 2020 e nel 2022, la prima volta come concorrente e la seconda come ospite Nel 2021 è tornata al Festival di Sanremo dopo 29 anni di assenza col branco quando ti sei innamorato È proprio questo suo ritorno che riconferma il suo successo e fa conoscere la cantante anche ai giovani, che subito si sono affezionati a lei In seguito, con la collaborazione con Fedez e Lauro, la sua notorietà è di nuovo salita alle stelle Nel 2021 ha pubblicato, insieme a Cristiano Malgioglio, il singolo Todo cambia, che ha riscosso un enorme successo Orietta Berti, ecco chi è suo figlio.La storica cantante è sposata dal 1967 con Osvaldo Paterlini La loro è una storia d'amore più unica che rara, sono una delle poche coppie dello spettacolo che vantano un amore così duraturo I due hanno due figli, Omar e Otis, il primo nato nel 1975 e il secondo nel 1980 Proprio Omar è diventato molto famoso nell'ambiente musicale. L'uomo è infatti un chitarrista molto conosciuto e apprezzato, e ha fondato una band con la quale tuttora va in tour e alla quale dedica gran parte della sua vita Omar non fa trasparire molto di sé, pur avendo un profilo Instagram, non è molto attivo Pubblica comunque delle foto che lo ritraggono in compagnia degli altri componenti della band, durante i concerti o le prove in studio, oppure insieme alla sua inseparabile compagna, la chitarra elettrica Anche Otis, il figlio più piccolo di Oretta e Osvaldo, è molto seguito sui social Dopo essersi laureato in scienze della comunicazione, oggi gioca a basket a livello professionale Al contrario di Omar, che ha seguito le ormi della madre, Otis ha cambiato strana Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video